Un importante accordo con l'anticipazione del credito per accorciare questi tempi di attesa? Sì, è fondamentale perché consente all'impresa di poter avere immediatamente disponibile del denaro, consente di metterlo nel circuito anche dei consumi, in questo caso della produzione. Devo dire che il comune di Badova ha una linea di pagamento molto diretta anche con le imprese che siamo in largo di 30 giorni, grosso modo, sulla spesa corrente e un po' di più sulla spesa di investimento e questo comunque consente all'impresa di avere immediatamente disponibile il denaro e insomma è un grosso impulso all'economia. Si conferma un comune virtuoso anche in questo senso? Sì, mi auguro che questa indicazione che è accolta molto bene da tutte le banche, venga accolta anche dal resto dei comuni, quelli anche meno virtuosi, perché in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, che stanno vivendo soprattutto le famiglie, le imprese, azioni di questo tipo aiutano non solo a ridare fiducia ma anche a creare le condizioni di una ripresa economica.